benvenuti ben trovati nuovo appuntamento con a tutta bc extra la nostra puntata numero 161 che un po come per tutte o quasi le ultime sarà completamente dedicata alle gare avremo così modo di vedere in azione giovani talenti e chi lo sa magari lo auguriamo per loro se è così che desiderano anche futuri professionisti siamo in veneto partiamo quindi dalla provincia di treviso da ormelle in particolare per andare a vedere il 59esimo gran premio rinascita è un pomeriggio speciale per la cantina borgo molino di roncadelle di ormelle perché si ospita la 59esima edizione del gran premio rinascita riservato agli juniores nel quartier generale della borgo molino rinascita ormelle si corre anche per la 28esima edizione del trofeo pulicrom srl e per le medaglie d'oro alla memoria di sandra freschi luciano baseotto e giuseppe buosi 107 i chilometri da percorrere suddivisi in 11 tornate del circuito locale 187 invece gli atleti che vedete prendere il via dal cuore di roncadelle di ormelle una prova molto veloce adatta ai migliori sprinter della categoria che inizia subito a spron abbattuto infatti complice qualche sferzata dell'avvento e alcune cadute il gruppo si spezza subito in più tronconi in testa al plotone c'è il treno della borgo molino rinascita ormelle che spinge subito sull'acceleratore e vedete che sono diversi gli atleti costretti subito ad inseguire un inizio davvero spettacolare questo della gran premio rinascita che si corre in un pomeriggio caratterizzato anche da alcune nubi minacciose oltre che dal forte vento che spira sul circuito di roncadelle dopo una quindicina di chilometri il plotone torna compatto ma in testa ci sono sempre le maglie della borgo molino rinascita ormelle che girano in doppia fila dettando un ritmo serrato a tutto il gruppo un gruppo che rallenta l'andatura solo dopo i primi 25 chilometri lo vedete sfidare tra i vigneti della marca trevigiana resi celebri in tutto il mondo dal loro prodotto quel prosecco che viene apprezzato anche sui mercati esteri dicevamo 187 gli atleti in gara in rappresentanza di tutte le formazioni più importanti del panorama nazionale juniores una gara molto attesa perché si corre nel fortino della borgo molino rinascita ormelle la formazione trevigiana che ha colto il successo qui negli ultimi tre anni grazie alla doppietta di alessio portello e alla volata vincente di vosislav peric nel 2018 una formazione quella guidata da cristian parvanello e carlo merenti che ha già collezionato ben 10 successi in questa stagione infatti la vittoria più recente è quella di riccardo florian che si è imposto domenica scorsa a sacile ma ci sono anche i quattro sigilli messi da alberto bruttomesso il vicentino che si è laureato campione veneto tre vittorie all'attivo per lorenzo ursella a cui vanno aggiunte quelle di matteo scalco e alessandro pinarello giunte in apertura di stagione prima parte di gara che scivola via molto veloce con il gruppo che sfila sempre compatto tenuto a bada dagli uomini della borgo molino ma anche da quelli delle altre formazioni che vorrebbero giungere allo sprint per decidere questa edizione 2021 del gran premio rinascita una classica del calendario trevigiano che però si accende dopo metà percorso vedete inizia la bagarre in testa al gruppo iniziano gli scatti qualche atleta riesce a guadagnare pochi metri di vantaggio anche se non c'è la convinzione necessaria per fare la differenza infatti a smorzare le velleità degli attaccanti e soprattutto il vento contrario ci prova invece con più decisione alessandro pascuoto porta colori dell'autosai petrucci contri la sua azione dura per qualche chilometro ma il gruppo non lascia spazio nemmeno alle sue intenzioni ci sono tra le più attive anche le maglie della san vendemiano cycling team le maglie nero verdi che vediamo ora in azione ma il gruppo è sempre lì a fare da guardia non lasciare spazio a nessuno e allora è la volta di fabrizio perin della cottardo giochi caneva ma anche per lui non c'è nulla da fare sino a quando ad allungare invece con maggiore decisione è il suo compagno di squadra riccardo grando anche per lui maglia della cottardo giochi caneva il ragazzi in maglia giallo nera riesce a guadagnare fino a 30 secondi sul gruppo e mette in evidenza una bella azione personale su un terreno quello pianeggiante di roncadelle che non è certamente favorevole per chi tenta di andare all'attacco mancano ancora più di 50 chilometri al traguardo ma per riccardo grando il vantaggio sul gruppo sale sino a raggiungere un tetto massimo di 45 secondi a quel punto arriva la reazione della plotone quando siamo al passaggio sul rettifilo d'arrivo con grando in testa alla corsa il gruppo è ormai lì sulle sue tracce grando sente che il respiro degli inseguitori gli è proprio sulle spalle e quindi decide anche lui di rialzarsi e il gruppo torna compatto tutto da rifare quando mancano meno di 50 chilometri al traguardo e qui inizia una nuova bagarre ancora diversi scatti in testa al gruppo con tanti atleti che cercano di mettersi in evidenza sino a quando ad andarsene è la coppia composta da samuele mion della work service speedy bike e da cesare chesini della usonia pescantina i due atleti al comando vengono raggiunti ben presto da nicolò costa pellicciari dell'angelo gomme villa dose e dei marco dalla benetta dell'auto zai petrucci contri va così a formarsi un quartetto molto interessante che pedala di comune accordo e il vantaggio di questi quattro battistrada nel volgere di pochi chilometri arriva ad essere anche di un minuto e venti secondi sul gruppo un gruppo che decide di lasciar fare anche se l'azione di questi quattro attaccanti potrebbe rivelarsi più pericolosa della previsto vedete infatti là in fondo le nubi grigie molto minacciose che potrebbero da un momento all'altro lasciar cadere una pioggia fastidiosa che andrebbe quindi a riaprire tutti i giochi ma il gruppo lascia sfogare questi quattro attaccanti quando ormai siamo a quattro giri al termine quindi ad una quarantina di chilometri dall'epilogo decisivo per l'edizione 2021 del gran premio rinascita che scorre veloce proprio nei pressi dei stabilimenti della rinox e della raiplast di san polo di piave prosegue l'azione dei quattro attaccanti che ricevono indicazioni anche dai propri direttori sportivi un'azione che dicevamo generosa e che ha assunto proporzioni decisamente interessanti perché il gruppo ha lasciato fare per diversi chilometri ma quando siamo ormai in vista del cartello dei tre giri al termine a portarsi in testa al plotone sono di nuovo le maglie della borgomolino rinascita ormelle è evidente per i ragazzi di cristian pavanello e carlo merenti che se c'è qualcuno che deve andare a chiudere su questi attaccanti sono proprio loro sono loro la formazione da battere sono loro la formazione di casa quella più attesa in caso di arrivo allo sprint hanno già dimostrato nei precedenti appuntamenti di saper imporre la propria legge quindi sono chiamati anche quest'oggi a fare gli straordinari e andare a raggiungere quei quattro attaccanti che con coraggio e con una grande intesa sono riusciti a fare la differenza sul gruppo la andatura in testa al plotone è già molto convinta per gli uomini della borgomolino rinascita ormelle che nel giro di un paio di tornate riescono a riportarsi sui quattro battistradi gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono proprio nicolò costa pelliciari dell'angelo gomme villadose e marco dalla benetta dell'autosai petrucci contri ma anche loro quando mancano ormai quattro chilometri al traguardo sono costretti ad arrendersi alla legge del gruppo e a questo punto quando il plotone è tornato compatto a fianco delle maglie della borgomolino rinascita ormelle sale anche un altro treno quello della work service speedy bike guidata da fabio camerin matteo berti e antonio santoro la formazione padovana che ha tra le proprie file vincenzo russo uno degli atleti rivelazione di questo avvio di stagione tenta di affiancare il lavoro degli atleti di casa vedete quindi due treni affiancati uno all'altro una scena da gruppo dei professionisti si giunge così sul rettifilo d'arrivo con il gruppo compatto però la legge della borgomolino rinascita ormelle ad imporsi con lorenzo ursella e alberto bruttomesso che precedono andrea dal lago alessandro gaglio e filippo gaglio della trevigiani campana imballaggi geotex 2000 quindi seguono riccardo florian alessandro pascuotto tommaso panicucci giovanni longato e stefano cavalli undicesima affermazione stagionale per la borgomolino rinascita ormelle che dunque per il quarto anno consecutivo può festeggiare la vittoria sulle strade di casa lorenzo ursella due successi qui a roncadelle d'allievo uno anche da juniors mancava il tris e il poker stagionale sì diciamo che oggi la squadra ha lavorato benissimo tutto il giorno perché comunque abbiamo lasciato andare via una fuga a metà gara visto che sapevamo di riuscire a tenerla sotto controllo poi tutti insieme gli ultimi giri ci siamo messi a tirare per cercare di chiudere e un po' alla volta con calma si è riuscita a chiudere e alla fine la squadra ha fatto un lavoro perfetto fino alla fine alberto bruttomesso secondo posto da festeggiare comunque con lorenzo sì sì è un secondo posto che mette la ciliegina sulla torta ha un lavoro di squadra non ottimo ma di più e infatti ci tengo a ringraziare tutti dal primo all'ultimo e una squadra una una gara perfetta ci tenavamo a far bene in casa e siamo riusciti a vincere lorenzo vittoria sulle strade di casa adesso si brinda e serve una dedica ora le dire come sempre va tutta la squadra tutti gli sponsor che organizzano sempre le gare e ci permettono di correre nella migliore dei modi e la dedica va anche alla famiglia e alla tutte le persone che mi sta vicino alberto quale sarà il prossimo traguardo dove vi scambierete ancora le posizioni e speriamo a più presto borgomolino rinasce tormelle gioca confeziona in casa e fa bottino pieno fotocopia dell'anno scorso presidente insomma sta diventando tradizione allora questo momento magico vorrei dire devo ringraziare i ragazzi tecnici e tutti che li seguono perché il quarto anno consecutivo che riusciamo a vincere sia con gli allievi che con gli uniori in casa è veramente una bella soddisfazione anche per l'impegno di tutte le persone che ci danno una mano a organizzare la corsa è una gratificazione per loro la squadra sia allievi che juniores ha dimostrato di andare fortissimo fin dall'inizio questo sta a significare che il sostegno è importante e chi gira attorno ai ragazzi conosce il lavoro che sta facendo è così si sono impegnati bene nella preparazione invernale e questo sicuramente era base per fare una bella stagione sulla scia di questi risultati si guarda il futuro con quali espressioni la stagione ancora lunga spazio ce n'è per tutti e sicuramente altre soddisfazioni non mancheranno marco bonaldo cura in modo più preciso gli aspetti organizzativi l'allestimento logistico grande lavoro indubbiamente di preparazione alla fine però gratificazione al massimo livello è andata così oggi mi pare no si gratificazione al massimo livello perché quando si ottengono due vittorie in due gare e pensare che il quarto anno consecutivo è una soddisfazione enorme e questo è anche il motore che ci aiuta a trovare tanta gente che che alla mattina si sveglia presto che viene a mettere transenne degli striscioni a montare il palco andare sugli incroci l'organizzazione l'organizzare una gara è una cosa che ben si sa è molto difficile essere ripagati con una vittoria i ragazzi è sicuramente la cosa che ci riempie di più tutti quelli che fanno parte di questo mondo hanno solo la passione che li muove è da pensare che i ragazzi che oggi qui stanno correndo da chi è arrivato primo a chi è arrivato ultimo potrà essere un domani sui grandi schermi e questa è la passione che ci muove per sperare di poter vedere qualcuno a fare un saldo di qualità una gara quella veneta quella che abbiamo appena visto riservata come avete sentito agli juniors un grande classico di stagione noi non possiamo ovviamente che essere lieti nel condividere con voi queste belle immagini anche perché testimoniano di un ciclismo che ha ripreso sostanzialmente a pieno ritmo dando soprattutto la possibilità a quelle categorie di esprimersi al meglio lo scorso anno per molti è stato un anno quasi perso soprattutto per chi stava progettando il passaggio a categorie superiori magari perché no proprio a quella professionistica un anno sicuramente difficile per tanti giovani quest'anno l'impegno invece è premiato e le gare sono bellissime perché tutti davvero tutti danno il massimo per poter vincere o meglio per potersi mettere in evidenza proseguiamo a vedere gare come abbiamo detto nella presentazione di questa nostra puntata e questa volta ci dedichiamo ad una bella sintesi del complessivo del totale del giro del friuli venezia giulia è stato un giro del friuli decisamente equilibrato spettacolare con grandi protagonisti al via quello che si è corso questa settimana per l'edizione numero 19 messa in cantiere con la consueta passione della società ciclistica fontana fredda del presidente gilberto pittarella quattro tappe che si sono aperte proprio all'interno del velodromo bottecchia di pordenone con una cronometra squadra disputata sulla distanza dei quattro chilometri 29 le squadre al via in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane con i migliori talenti del panorama nazionale a sfidarsi per questi quattro giorni di gara prima gara tappe della stagione per i juniores e con le immagini stiamo proprio vedendo impegnati sulla pista di pordenone i portacolori della uc bostese olonia la formazione lombarda che ha concluso al terzo posto e che vedeva al proprio interno oltre a manuel oioli anche gabriele e tommaso besseca davide parini edoardo alleva seconda posizione in questa prima tappa della giro del friuli venezia giulia juniores 2021 per la work service speedy bike che poteva contare oltre che su vincenza russo uno dei più vincenti di questo avvio di stagione anche sull'ex tricolore della cronometro andrea violato con loro c'erano luca tornaboni samuele mione daniel zanta il loro tempo è davvero ragguardevole 4 minuti 40 secondi e pochi centesimi ma viene migliorato di appena un secondo dalla borgomolino rinascita ormelle la società che aveva vinto l'edizione 2020 con il vicentino davide de pretto mette subito le cose in chiaro e va a cogliere il successo nella frazione d'apertura in gara ci sono alessandro pinarello matteo scalco alberto bruttomesso marco di bernardo e giovanni cuccarolo che chiudono la prova in 4 minuti 39 secondi e 28 centesimi questo risultato consente ad alessandro pinarello di andare a vestire la prima maglia giallo blu di leader della classifica generale patrocinata dalla regione friuli venezia giulia e con questa situazione soprattutto con una classifica cortissima ci si presenta al via del secondo atto la pordenone cimo l'ice che si corre proprio con partenza dal cuore del capoluogo di provincia per chiudersi in valcellina e soprattutto con un arrivo in salita quello di cimo l'ice ormai classico per la categoria juniors nel mezzo ci sono altre asperità da affrontare e il gruppo degli atleti in gara sfila ad altissima velocità per tutto il tracciato una gara spettacolare questo giro del friuli venezia giulia che ha consentito non solo la corovana dei corridori ma anche ai tanti tifosi che hanno seguito la corsa di scoprire luoghi eccezionali a partire proprio dalla valla cellina che con le sue bellezze naturali ha incantato l'intera carovana ma tornando alla corsa il momento decisivo si vive quando dopo aver attraversato i primi 100 chilometri di gara si imbocca la strada che conduce verso cimo l'ice proprio nella all'inizio di questa strada quando si affrontano le gallerie prende in largo un'azione di sei corridori sei attaccanti che riescono nell'impresa di sorprendere il gruppo e tra questi sei sorpresa nella sorpresa c'è la maglia di leader di alessandro pinarello della borgomolino rinascita ormelle che sin da questa tappa mette in chiaro di essere uno dei più autorevoli esponenti del gruppo sulla sua ruota sempre affiancato edoardo zamperini della sali stefan omap che veste i colori in questo caso della maglia blu dei traguardi volanti e poi ovviamente anche simone grigion lo sloveno adam jordan e sebastiano minoia della feralpi il gruppo viene trainato dalle maglie della bustese olonia che tentano di riportare sotto manuel oioli ma per loro ormai è troppo tardi infatti sono già lanciati verso il traguardo i primi sei battistrada con che procedono con cambi regolari all'uscita dalle gallerie che conducono verso cimo l'ice soprattutto al sulle sponde del lago di barcis infatti i battistrada vantano ben 30 secondi sul gruppo un gap che andrà dilatandosi sino a raggiungere 50 secondi per poi ridursi nel finale quando ormai la reazione del gruppo seppur tardiva diventa vehemente siamo all'ultimo chilometro con i battistrada che sono rimasti in 5 nel frattempo vedete che proseguono a cambi regolari si mantiene in ultima posizione sebastiano minoia della feralpi ed è proprio l'atleta lombardo che va a battezzare l'arrivo di cimo l'ice è lui il più veloce allo sprint quindi successo di tappa per il nero verde sebastiano minoia seconda posizione per eduardo zamperini quindi simone grigiona alessandro pinarello e adam jordan giunge 8 secondi giulio pelizzari della uc foligno mentre gabriele raccagni della feralpi regola la volata del gruppo su giovanni longato alberto bruttomesso e marco andreaus per effetto di questo arrivo alessandro pinarello rafforza il proprio primato in classifica generale guida con 5 secondi di vantaggio su eduardo zamperini 9 su sebastiano minoia 14 su simone grigion mentre più indietro ci sono tutti gli altri dunque festa grande in casa feralpi per un successo che mancava ormai da tanti anni ma soprattutto una conferma importante per la borgomolino rinascita ormelle la terza frazione scatta dal cuore di san daniele del friuli una tappa molto insidiosa questa disegnata interamente in provincia di udine che si conclude a tarcento dopo un doppio passaggio sulla difficilissima salita di coia primi chilometri che vedono il gruppo sfilare compatto e susseguirsi dopo pedalata dopo pedalata tanti attacchi nonostante questo il gruppo rimane pressoché compatto sino all'uscita di san daniele in direzione tarcento lo vedete in questo momento il gruppo sfilare proprio nel centro storico di san daniele dove erano fissati anche due gran premi della montagna ed un traguardo volante gruppo allungatissimo le fatiche iniziano a farsi sentire sulle gambe dei protagonisti del giro del friuli venezia giulia ma il bello deve ancora venire infatti proprio la salita di coia lo spauracchio principale di giornata perché presenta alcune pendenze molto interessanti si transita sulla linea d'arrivo con il cartello dei due chilometri al termine il gruppo lo vedete compatto dopo la prima tornata riesce ad andarsene tutto solo samuele bonetto che qui vediamo impegnato già nel secondo passaggio sulle rampe di coia alle spalle di samuele bonetto si forma un terzetto composto da alessandro pinarello della borgo molino rinascita in melle giulio pellizzari della uc foligno ed edoardo zamperini della sali stefan omap quindi i primi due della classifica generale che continuano a tallonarsi con uno scatenato giulio pellizzari autentica rivelazione di questo giro della friuli pellizzari forza ritmo va a raggiungere bonetto lo stacca e si invola in compagnia di alessandro pinarello verso il traguardo perde contatto invece edoardo zamperini il portacolori della sali stefan omap che quindi perderà terreno anche in classifica generale ultimo scollinamento per giulio pellizzari l'atleta che continua a scandire il ritmo non si scompone alessandro pinarello che a questo punto deve solamente controllare la situazione ma davvero un ritmo forse nato quello imposto da uno straordinario giulio pellizzari nei primi metri di discesa rientra sulla testa anche un bravissimo samuele bonetto l'ex tricolore allievi della strada che oggi veste i colori della uc giorgione ven cam riesce a riportarsi si compone così un terzetto al comando della finale di gara questi tre atleti riescono a mantenere 25 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori si presentano di comune accordo al triangolo rosso dell'ultimo chilometro ed è qui che viene sancito l'accordo a samuele bonetto la tappa ad alessandro pinarello la maglia di leader il primato rafforzato in classifica generale e a giulio pellizzari la soddisfazione di essere stato uno dei più grandi protagonisti di questa che era un po la tappa regina della giro del friuli venezia giulia si giunge quindi agli ultimi 300 metri con il terzetto che va a giocarsi allo sprint il successo nettamente più veloce samuele bonetto il portacolori dell'uc giorgione che torna quindi ad esultare sul traguardo della giro del friuli e va a cogliere un bellissimo successo che ne conferma tutte le ottime doti che aveva già messo in luce nelle categorie giovanili seconda piazza per alessandro pinarello segue giulio pellizzari quindi sarà manuel oioli della bustese olonia a precedere gli inseguitori in classifica alessandro pinarello quindi rafforza il proprio primato e va a guidare davanti ad edoardo zamperini con ben 31 secondi di vantaggio quindi giulio pellizzari a 35 secondi samuele bonetto a 39 e manuel oioli a 52 l'ultima e decisiva frazione si corre da fiume veneto a porcia 128 gli atleti che sono rimasti in gara dopo le prime tre giornate di corsa e vedete che si parte con un ritmo piuttosto turistico infatti gli atleti affrontano questa che è la tappa sulla carta altimetricamente più semplice rispetto alle altre con un piglio diverso rispetto ai giorni precedenti si inizia con una fase di controllo ricordiamo che ci saranno comunque da scalare per due volte la salita del castello di cane vede proprio su queste rampe che il plotone si seleziona si allunga rimangono davanti una sessantina di corridori che andranno poi a giocarsi il successo di tappa ottimo il lavoro ancora una volta della borgomolino rinascita armelle che riesce a controllare la corsa a rintuzzare gli attacchi dei diretti avversari in classifica generale per alessandro pinarello e quindi si giungerà in pianura verso porcia con il gruppo compatto una situazione che non può che fare piacere al leader della classifica generale ai suoi direttori sportivi cristian pavanello e carlo merenti oltre che a tutta la dirigenza nero verde con pietro nardin e marco bonaldo in testa una formazione quella della borgomolino rinascita armelle che è particolarmente affezionata a questa corsa e che quindi dopo il successo di davide depretto dello scorso anno già assapora il bis con alessandro pinarello si transita sulla linea d'arrivo di porcia per il suono della campana con tre atleti al comando che precedono di pochi metri il gruppo negli ultimi cinque chilometri però il gruppo si ricompatta anche grazie al lavoro del treno della work service speedy bike sono proprio i ragazzi di patrò massimo lavorato a guidare lo sprint finale di questo giro del friuli venezia giulia che ha già in alessandro pinarello il re della classifica generale si transita l'ultimo chilometro con le maglie bianco rosso blu in testa ed è proprio samuele mion il portacolori della work service speedy bike ad impostare una volata lunghissima negli ultimi 300 metri ma dalla sua ruota esce come un fulmine alberto bruttomesso che va ad aggiungere la ciliegina sulla torta della borgomolino rinascita armelle suo il successo di tappa davanti a samuele mion e dario igor belletta la classifica finale recita primo alessandro pinarello borgomolino rinascita armelle seconda posizione per edoardo zamperini della sali stefan omap che chiude a 31 secondi di distacco terzo samuele bonetto della uc giorgione a 39 secondi quindi seguono giulio pellizzari manuel oioli dario igor belletta lorenzo rimaudo florian caiamini simone grigion e marco di bernardo ed era l'ultima clip naturalmente per questa nostra puntata numero 161 io vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento come sempre alla prossima settimana grazie